Questa nuova opzione consente di simulare un'asta come modello di superficie. Questa funzione offre quanto segue. Input rapido tramite un'asta con una sezione trasversale e simulazione delle aperture nell'anima della trave. Output e verifica simultanei della reale distribuzione delle tensioni e dei risultati di aste e superfici. Puoi usare l'asta di tipo modello di superficie per Travi alveolari e vierandil Travi con fori Travi con fori rettangolari Travi con fori rettangolari